Ehi Siri, quanti gol farà quest'anno Cristiano Ronaldo in Serie A? Fa 13 Ok, grazie Ciao ragazzi, oggi siamo a Bologna, fermeremo le persone e gli chiederemo qualcosa a proposito di Cristiano Ronaldo Quanti gol farà in Serie A? Andiamo a scoprirlo Quanti gol farà Cristiano Ronaldo in questa Serie A? 15 15? 0 Come 0? Sì Conoscerai sicuramente Cristiano Ronaldo Sì Un bel ragazzo 18 18 100 100 in una singola stagione? Solo quest'anno? 10 50 50 50? È un numero incredibilmente alto 10 10? Tutti così pochi Quanti gol farà Cristiano Ronaldo quest'anno? Niente Non risponde, è timido Siamo al Nike Store, il luogo ideale di Ronaldo perché ovviamente è sponsor Nike Chi è? 20 20 25 25 Tombola 23 Conosci Cristiano Ronaldo? Sì, sicuramente L'ho visto Sai come è fatto So come è fatto 15 15 Quest'anno Quest'anno Non ha ancora fatto qualcosa Non ha ancora fatto gol Sparo Spara 4 4 Io ti fai io che c'è un problema Eh va bene, anch'io Quindi puoi dirvelo Cristiano Ronaldo ovviamente lo conosci Un bel ragazzo, un bel uomo Figo Figo possiamo dirlo Però vedi i ragazzi sono presi da Dio, cosa fai? 10 10? Così pochi? Così pochi Va bene, non c'è fiducia Abbiamo pagato troppo Troppi soldi Quanti gol farà in Serie A dato che è venuto per la prima volta in Italia? Tanti Secondo te? Non lo sai Secondo lei è ancora il più forte del mondo Direi che sì Perché squadra tipi? Pescara Ah allora vedi, non c'entra niente Trentello magari E se è contento se ne fa 30 Te che cosa mi dici invece? 15 15 gol Ok, vediamo chi avrà ragione Lei si fida di Ronaldo? Beh, se non mi fidassi di Ronaldo di chi dovrei fidarmi? Giusto anche questo Sì, ma aspettiamo Eh aspettiamo, ne farà Quanti? Oh, per più sopra, forse tanti 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 quanti? Spara un numero Un numero a casissimo 20 Beh, 20 dai, un bel numero Tanto? Una ventina penso Una ventina Sei barra sette perché le difese italiane sono più aggressive di quelle spagnole Quindi non riuscirà a giocare come giocava con Real Madrid perché non ha gli stessi centrocampisti e gli stessi attaccanti che aveva Real Madrid Se i gol all'anno li fa Pellissier Dai 20 ai 25 Eh, c'è un dislivello notevole tra i due Però poi al prossimo anno Il prossimo di più Ok Lo sai che è anche un calciatore importante Certo Quanti gol farà in Serie A? Quanti gol farà in Serie A? Oddio Io di calcio sono abbastanza ignorante La sparo 40 40 solo quest'anno in Serie A? Sì Ok, va bene Me lo auguro ma non credo Vediamo dai Io spero che si sblocchi in fretta Perché io c'ho diventino quindi da tifoso Siamo in due e ce l'ho anche al Pantacalcio quindi insomma Allora sì È meglio che si sblocchi anche stasera Metto le mani al cielo e spero 25 25 4 sono pochini in effetti Te segna 4 Io segno 4 Secondo te quanti gol farà in Italia dato che è venuto la Juventus? Tanti Ok, quanti? 50 In un anno solo? Ah, sono pochi No, sono tanti Però in Italia è difficile Sì, è più difficile che in Spagna Sì E la signorina? Niente, non dice niente della signorina Insomma, idee abbastanza confuse C'è chi pensa che ne farà 100 in una singola stagione C'è chi pensa che ne farà 0 E poi c'è chi le spara così a caso 4, 5, 6 Insomma, ancora non lo sappiamo Scrivetemi magari qui sotto nei commenti voi Quanti gol pensate che potrà fare Cristiano Ronaldo In questa singola stagione in Serie A? Lasciate like qui sotto in descrizione Trovate tutti i miei social network Vi invito a seguirmi anche lì Al prossimo video Fatemi sapere che cosa volete vedere